torno a provare una vecchia conoscenza una vecchia e apprezzata conoscenza la scrivo ma in questo caso si tratta di un modello nuovo perché la forma di questa penna ed il nome l'adotta è diversa dalla fil e dalla piuma praticamente ricorda sì la fil ma non ha le faccettature ed è arrotondata presenta sempre quella sciancratura al fianco ma questa volta è più addolcita non saprei dirvi onestamente se mi piaccia di più quella così anche un pochettino più personale con quella faccettatura tanto diversa da altre penne che conosciamo oppure questa che come ripeto è un pochettino più dolce nelle sue linee un pochettino un pochettino nuova anche nel panorama della produzione scrivo di questa azienda ho già parlato tante volte la conosciamo ormai penso tutti quanti un'azienda di bologna un'azienda che ha una tradizione anche importante nella produzione dei pennini perché è vero che non sono non saranno dei pennini in house come si dice oggi ma sono dei pennini molto particolari perché sono realizzati su specifiche su filiere produttive esclusive dedicate a scrivo e si sente questa è una cosa che si percepisce appena si prende in mano la penna un bel astuccio una bella una bella confezione insomma rientra un po nel profilo di penne di questa categoria vi dico subito che rispetto alla fil mi ha convinto di più che cosa il bilanciamento la percezione del materiale quindi la qualità risulta altrettanto evidente è una bella penna c'è poco da girarci intorno e lo dico sempre guai se non fosse così belle le finiture belle le parti metalliche e poi questa resina che nella versione molin ricorda la madre perla è assolutamente di pregio è proprio bella girata fra le mani come insomma penso si possa vedere dalle immagini i riflessi sono tanti è una penna diversa da tante altre che esistono sul mercato insomma è veramente piacevole da rimirare come si suol dire si dicevo che il bilanciamento è la parte che mi ha convinto maggiormente senza arrivare al pennino di cui vi parlo dopo sembra strano quasi che ci sia comunque uno stantufo che ci sia un meccanismo all'interno che di solito la pesantisce sul codale la penna è veramente ben bilanciata è un piacere scrivere con queste penne si tratta di una edizione limitata per forza perché tutte le collezioni lo sono 219 pezzi sapete il perché ve l'ho già spiegato finiscono in fretta cioè ci sono i pezzi che ci sono quindi se vi piace è meglio piazzare l'ordine finché c'è il conduttore è in ebanite il pennino è in oro anzi il conduttore ci dice scrivo che ha un doppio capillare per garantire una continuità e la giustezza del flusso i pennini sono di due tipi da 14 e 18 carati ce ne sono alcuni che veramente mi hanno colpito e non avrei dubbi se mi comprassi una di questa di queste penne così gradevoli così proprio meravigliose saprei già dove andare a parare per esempio il 14 carati è la linea dedicata al pennino anche flessibile un pennino flessibile che non deve ingannare nel nome è un pennino elastico è un pennino gradevole fatto bene fra quelli moderni è uno di quelli che mi piace di più non tanto per farci le acrobazie per vedere il tratto che da fine diventa un doppio b quanto per come è accomodante nella fase di scrittura e come essere su un'automobile seduti su un comodo sedile con delle sospensioni magistrali che non vi fanno sentire le buche che ormai affastellano le nostre strade beh questo pennino è la stessa cosa rende piacevole ogni segno ogni curva ogni occhiello ogni raccordo segue quello che è il peso della mano e fa da ammortizzatore fra carta e per l'appunto l'impugnatura mi è piaciuto molto assolutamente del resto il fine o il soft fine il anche il medio se vogliamo sono i pennini che 14 carati preferisco di più non ho dubbi invece ad orientarmi sull'ultra sull'extra extra fine e f nel mondo del 18 carati tanto più quando lo coniugo ad una ad un modello come la piuma che secondo me è un esempio di bilanciamento non peraltro si chiama piuma e credo che ci sia stato uno studio per arrivare a determinare questa questa piacevolezza non c'è altro termine nella fase di scrittura ho caricato la penna con l'inchiostro blu cosmico fra le altre cose scrivo produce anche degli inchiostri davvero interessanti ma anche se non sono loro i produttori insomma questo ci importa molto relativamente sono dei buoni inchiostri magari non tutti nel senso che o perlomeno perlomeno mi correggo non hanno tutti la stessa performance perché nell'arco delle loro belle colorazioni ci sono inchiostri che hanno una funzionalità sul pennino di un tipo e qualcun altro di un altro qualcuno più scorrevole qualcuno un po meno qualcuno che è un po più incline magari allo spiumaggio su certe carte altri che invece non spiumeranno mai quindi questa sia un po una varietà che tutto sommato potrebbe disorientare ma il blu cosmico per esempio uno dei miei inchiostri preferiti ma anche il rosso chianti il rosso melograno il nero nero insomma sono inchiostri che io ho nel nel mio scrittorio fra l'altro è vero che il singolo calamaio tra l'altro particolarissimo può presentare un costo elevato ma se lo vado a confrontare con i millilitri che contiene diventa un inchiostro invece di quelli abbastanza economici soprattutto in proporzione a quello che offre il pennino fine flessibile è un pennino che si adatta un po a tutti gli scopi e questo che me lo fa anche apprezzare perché va bene tanto quando vogliamo dedicarci ad un po di calligrafia per il nostro piacere quindi cercando le forme le linee ma anche per averla come una penna qualsiasi da impugnare scrivere tanto che sia la nostra agenda o il planning oppure un'agendina piccola perché comunque si manovra molto bene è una bella penna stilografica un pennino che ripeto è il più centrato fra tutti perché ad esempio l'extrafine flessibile non ha un grado di partenza così sottile come magari potrei aspettarmi o potrei immaginarmi ed infine un'avvertenza che ho già introdotto prima parlando di flessibile chiamiamolo flessibile semi flessibile elastico molleggiato quello che vogliamo stiamo parlando comunque di un pennino che non è un pennino rigido ma non è nemmeno il pennino vintage di una volta perché non è quello il suo scopo fra i pennini moderni è uno di quelli che a me piace di più però mi raccomando non maltrattatelo cioè non andate a cercare il limite aspetta che premo divarico vediamo fin dove arriva perché come tutti un po i pennini moderni hanno un problema di memoria chiamiamolo così cioè di ritorno allo stato di quiete una volta che vengono un po allargati forza oggi forza domani perdono quella loro posizione di partenza ed allora la ricetta per la felicità è lasciare che sia la mano con il suo peso naturale e la sua inerzia nelle curve negli arrotondamenti oppure nella forza impressa nelle linee verticali discendenti a guidare la pressione vedrete che il divertimento non manca e soprattutto c'è molta gratificazione nella scrittura grazie a tutti amici e vi aspetto ai prossimi video e brava scrivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti